Oggi si abbandona la postazione di lavoro per andare al Bosco di Capodimonte. Vediamo mamma. Ilaria sei pronta? Siamo pronti? Quello è il Bosco di Capodimonte. L'altra volta non c'eri. Sono in aria. Adesso andiamo al bar a fare la seconda colazione e ve lo faccio vedere da qui. Eccolo sta qua. Per andare a fare la seconda colazione dobbiamo saltare su un piede solo. Tutto il tempo? Fino a lì? Ok. C'è Babbo Natale, Ilaria? Sì, tu saltella intanto. E' contenta? Abbiamo occupato subito il posto. Barbara ha fatto una corsa. Sì, e ce l'abbiamo fatta. E lui doveva. Sì, lui specialmente. Sì. Cosa prendi tu? Sono lì. Non ho visto dentro cosa hanno. Sì. Non ho visto dentro cosa hanno. No, però possiamo andare a vedere. Io prendo il tè alla pesca e le patatine. Le vuole patatine? Sì. E' quello che facciamo vedere. Sì. Barbara, tu che hai ordinato? Cosa ho visto prima? Patatine e penuta di arancia. Ah, ok. Vedremo nella registrazione se è vero. Barbie, amore, stasera. Io ho preso un caffè e una crossata ai frutti rossi. la crostata era buonissima. Quella a limone com'era? Molto buona. Che c'è, che c'è, che c'è, che è vista? Ma che è vista? Una zanzara. Veramente. Basta! Le crostate erano buonissime, anche il caffè. E' un bar che vi consiglio, sicuramente, se venite al Capodimonte. Ciao! Dove andiamo? Ora andiamo un po' a Zunzu. Ma andiamo a Zunzu. Andiamo a Zunzu. Da te. La salute. Piancavo. Quando sei cresciuta. In giro. A Zunzu. A Zunzu. A Zunzu. In giro. Manza. Manza subito. Finito. Ancora. Poi ancora. Manzato. Perchino. Manzato. 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 E' arrivata l'ora della pappa e ce ne dobbiamo andare, ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ancora. Alla prossima.